Sono andata avanti fino a tarda sera alle ricerche di Deo Jordan Basakim Bembo. Il sedicenne è scomparso alla Golena del Furlo intorno a mezzogiorno di domenica, quando è stato visto per l'ultima volta mentre si allontanava per andare a fare un bagno nel fiume Candigliano. Il minorenne, richiedente asilo politico e proveniente dal Gabon, era ospite di una comunità di Rimini, Papa Giovanni XXIII, e insieme ai compagni e ai responsabili della struttura si era recato al Parco della Golena per una gita domenicale. Alle ore 13 il giovane non si è presentato all'appello degli educatori, così gli amici hanno iniziato a cercarlo per le sponde del Candigliano. Poi qualche ora dopo, quando le ricerche hanno dato esito negativo, sono state allertate le forze dell'ordine. Sono state lunghe ore di apprensione, in cui i vigili del fuoco di Pesore e Cagli, i carabinieri di Urbino e Acqualagna, gli agenti del Corpo Forestale e dello Stato, hanno lavorato incessantemente, insieme ai tanti volontari della protezione civile e delle guardie ecologiche, con l'aiuto dei gruppi elettrogeni che illuminano le acque del fiume, hanno scandagliato il fondale due sommozzatori, che poco dopo la mezzanotte hanno ritrovato il corpo senza vita del sedicenne. Il ragazzo nordafricano potrebbe essere annegato. La salma è stata trasportata all'ospedale di Urbino e a stabilire le cause della morte sarà la perizia del medico legale sul corpo della vittima.